buongiorno a tutti gli amici del mest thriller di mestre sono bruno morchio il papà dell'investigatore privato genovese baci pagano sono qui per presentarvi il mio ultimo romanzo uscito il 5 di novembre che si intitola voci nel silenzio vi mostro qui la copertina temo che la vediate a specchio il romanzo edito da garzanti è il tredicesimo è la tredicesima indagine dell'investigatore privato baci pagano ora scrivere un romanzo come dire è sempre un viaggio che compiamo dentro noi stessi e l'idea di questo romanzo è germogliata durante la quarantena da pandemia covi il lockdown ha determinato una sorta di stop di di fermata delle attività della proiezione verso l'esterno e necessariamente ha comportato credo per molti un rivolgere un po lo sguardo verso di noi verso l'interno ed è quello che succede anche al protagonista del di voci nel silenzio del romanzo nell'aprile del 2020 nel pieno della quarantena decretata dal governo appunto per il covi 19 baci pagano riceve una telefonata che lo farà ripiombare negli anni più bui della sua esistenza quelli che ha trascorso in carcere a seguito di una ingiusta accusa di terrorismo e che hanno lasciato una ferita profonda dentro di lui a cercarlo è la figlia di un ex brigatista beppe bortoli che l'investigatore genovese aveva scagionato vent'anni prima da un'accusa di omicidio la ragazza gli fa pervenire in busta chi usa una lettera del padre appena deceduto proprio a causa della pandemia il cui contenuto è sconosciuto anche a lei stessa il romanzo racconta l'incarico svolto da pagano nel 1998 per discolpare bortoli e nella seconda parte la nuova improbabile indagine condotta senza uscire di casa o quasi usando il telefono e qualche sorprendente video chiamata via skype ad aiutarlo con informazioni e consigli nel silenzio agghiacciante delle strade svuotate dal coprifuoco sanitario le voci amiche del vicequestore in pensione totò pertusiello ex capo della scu della sezione omicidi della questura di genova e il l'agente penitenziario virgilio loi anche lui in pensione e un terzo personaggio che è la sua nuova fiamma la maestra elementare giulia corsini che aspira a diventare socia della agenzia investigativa di baci pagano ma un silenzio ancora più inquietante lo attende quello esalato da una memoria frammentata e confusa popolata dagli spettri del passato che lo porterà a dirsi che questa non è un'indagine è una riesumazione e per arrivare alla verità ci vorrebbe non un investigatore privato ma un medium un esperto in sedute spiritiche capace di far parlare i defunti le losche macchinazioni di questo presunto rivoluzionario beppe bortoli che baci ha sempre detestato gli è sempre sembrato un bar un uomo mediocre e poi l'epifania di una breve lontana storia d'amore consumata in una piantagione di cuba all'inizio degli anni 80 le ferite di un passato a cui neanche le oblio può recare sollievo porteranno il nostro investigatore a misurarsi con un tragico dilemma una volta finita l'indagine racconterà quello che ha scoperto e se ne libererà oppure reggerà fino in fondo l'insostenibile peso della verità grazie a tutti